Magister, allora, Quister, ragazzi, ora io vi dico questa frase qua rallentatore. Io ora vi copio questo messaggio, ragazzi, di Fravaglio. Magister, quando faccio la doccia, penso ad Allerendis, come devo fare? Grazie, Paolo. Action. Action man. Action man. Sky man. Silt, ragazzi, un normanno. Un normanno. Devi bere acqua, non bevande, fanno male. Il cazzo che mi pare, Magister. Ragazzi, questo pic, lo so che non c'entra un cazzo, ma questo pic è in onore di Dusnip, ragazzi. Sapete perché? Perché ho pensato a Dusnip, ho pensato al miglior genre e mi è iniziato a crescere. È iniziato un crescendo di... è iniziato un crescendo perché mi sono ricordato i suoi inze con gli sin. È iniziato un po' un crescendo. Ho detto cazzo, crescendo, cazzo, crescendo il cazzo, sonaco il crescendo, R e si va in. Questo è stato l'allacciamento del mio pensiero dei neuroni. Direi che ha senso, giusto? Bene. Qui facciamo le rune e vado a pisciare. E per il senti in colpa. Tranquillo, da sì. Anch'io penso ad Allerendis mentre faccio la doccia. Fa piacere per voi, ragazzi. Ah sì, dai, facciamo così. Diamo l'aeri per aumentare lo shield. Giusto, vaffanculo. Contro Aurelion Sol, Balian, dimmi che sei tu, ti prego. Dimmi che è l'Aurelion Sol, dimmi che è l'Aurelio di Balian che perde 1v1 da Jan. Vado a pisciare. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Tranquilli, 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 tranquilli. Ho cambiato scena, sì. È free elo, ragazzi. La zona del Magister. Posso suonare qualunque cosa, l'ho dimostrato duemila volte. Prochiamo, no? Tiriamo la corsa un fa, un red, no? Start a blu, credo, immagino. Sì, let's go. E il pocio Daniele. Ciao, e il pocio Lavezzi. Grazie nel follow. Let's go. Ok, let's go. La seconda pozza mi faceva schifo. No, ne ho due. Non ne ho bisogno, ragazzi. Non ne ho bisogno. Non ho bisogno di due pozioni. Eh? È faker questo. Il cazzo è sto la mumbo, eh? La band è a passare attraverso lo spazio-tempo. Questo, Daznip, non ti devi sentire in colpa. Stanno già un HP sotto a torre. Becco per unirli goccia, ragazzi, eh? Magister perché non la smette di devastare gli avversari. Dici di giocare un po' più lentamente, ragazzi. Giochiamo un po' più piano. Eh? Sì, sì. Con Sona devasto proprio meccanicamente, ragazzi. Avete capito tutto dalla vita. Becchiamo dopo sta wave per unirli TR. Questo è unirli back. Cheat-recall si chiama, eh? Pusci la wave, recalli senza perdere esperienza. Facciamo una goccetta, una lacrima della dea. Se non farti fregare o ti faccio scendere le dee, quelle di... Nonazzo, non dai sai come il cazzo si chiama. Poi, non troppo... Megli Odas e l'altra tipa. Dai, vaffanculo. Andiamo in bat. Iniziamo a staccare la goccia. Abbiamo un... Vabbè, dai, ci sta. Sei top lane, altrimenti occhio che avete man disadvantage. Nonazzo, non dai sai. Bravi. Ci ho provato, ragazzi. Non parlo latino. Le mie meccaniche di sauna sono impressionanti, certo. Gioco Pike, Blitz, Trash, Brand. Le meccaniche di sauna sono emozionanti. Bravi, ragazzi. Assolutamente sì. Voi siete avanti. Spero di tirare le ulti al contrario. Magister sa dove andavano i bambini in tempo di guerra durante i bombardamenti. Dove? Ovunque. Continuiamo a curare per proccare la passiva di sauna, ragazzi. Esperiamo un altro heal. Continuiamo a far aumentare l'accelerazione. Generazione, giusto? E qua ci becchiamo il Sidney qua. Li sputtiamo un po' di corde e di violino. Posto. La corda di Hitman di violino alle spalle. Si vola. Una di Kerry che mette una pink e poi mette una ward. Non credo di averlo mai visto in vita mia. Oh, il team 0. Ah, Mumu sta smarfando. Fermi tu, è 2-0. Si è ammazzato mid ad Kerry da solo. E mid ad Jagger. Quando che ero dis... Vabbè, stavo leggendo la ciappola in mezzo. Sta recollando. Ok. Tornato e ha recollato. E arriva l'Onturn con la grandissima giocata in mid. Bella questa giocata qui, ragazzi, eh. Ah, Mumu è ancora mid. Nessun problema. Ragazzi, iniziamo a maxare la V qua, ragazzi. Perché non sono in lane in phase. Ho capito perché non proccavo mai, ragazzi. Perché io non curo mai di solito. Quindi non la proccavo mai. È per quello che non risultava broken nelle mie mani. Sona, ragazzi. Non perché sono incapace con Sona. Perché non proccavo la passiva. Sì, occhio ad Aurelio, ragazzi. Ad Aureliano. Come tutti sapete. No! Non l'ho visto, Suburra. Mostri! Ho visto finché non è arrivato lo Z... 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 Che non serve, a quanto pare. E invece serve... Un bel uno per uno piccante, ragazzi. Mi piace. Contando che siamo astroscaling, mi piace, ragazzi. Teniamola qua. 1.300 dobloni. Facciamo finta di aver beccato. E ricolliamo qua. Vediamo se Kaisa si espone. Annullo il recall per vedere un attimo il recall adesso. Scarpe, monstro, ragazzi, eh. Mi raccomando. Quanto è che devo arrivare qua a 60? Potevo... Potevo proccarla di più, probabilmente, ragazzi. Potevo proccarla leggermente di più. Vediamo se riesco a proccarlo qua. Sì, a 30 HP. Finta di scendere, poi salgo. Voglio Ireglia, voglio. Una sona che romma in top su Ireglia. Ditemi quando l'avete mai visto, una roba del genere. Ditemi quando avete mai visto una sona rommare in top su Ireglia. Osta. Dai, che fate! Kill a sto mostro! I-Hall! Tranquilli, ragazzi. Lo sto pozzato. E non si muore! Tutto calcolato! Fammi il FIAR. Shock! Lo stopwatch del Magister! Che ancora... Guarda Kaisa! Guarda Kaisa! Guarda Coroku, uno basker! Guardalo! Back e jeans free placche! E jeans free placche! Mi piace! Il roaming top fatto flashare Ireglia. Buttata via l'ulti di Ireglia, doggiandola. Eroico! Placche top! Placche bot! Che movimiendo! La generazione dei miracoli! Oi, Friskies! Li ha io! Ho il nome dei croccantini del mio cane! Tiro una I-Hall qua, ando per proccare. Ulti di Jinx! Flash di Amumu! Madiana follow-up! Kill su Amumu! Giriamoci su Ireglia! Ma sta arrivando una sona incazzata! Rimaniamo qua a proccare i ragazzi! La passiva! Arriva Talo! Lo massacriamo! Lasciamogli la solo placca! Posto! Beh, i movimenti sulla mappa qui, eh! Beh, i movimenti anticipato! Addirittura Aurelio un sole! Premiamo la W in base e la procchiamo ancora! Perfetto! Zonia! Possiamo farlo, ragazzi, eh! Lo Zonia possiamo farlo più avanti dopo il Moonstone! Anno Talo, Neirelia ci può stare! Possiamo fare Moonstone-Zonia! Moonstone-Zonia! Massacriamo gli avversari! Che gameplay ti piace? Romo più con sona che con trash! Fatemi due domande! Fate! No, non fatevele le domande! Forzo Amumu a scendere in botlin! Oh, cazzo! Godo! Sì! Le bait! Le bait James! Sì, sì! Sì, sì! Tranquilli, ragazzi! Non sono killabile! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! È eroico! Cristo Dio! Questa è una sona! Ditemi se le altre soni fanno così! Ditemi se le altre soni giocano così! Shin, succhiami le palle! No, anzi no! Perché diresti di sì! Vaffanculo! Semplice! Diamoci un altro play! No, dovremmo ricollare qui, ragazzi! Però con un po' di passiva! Vuole daivare! Sì, è come passiamo noi! Vai a giocare sona! Non fare... No, non fare niente! Aspetta! Non esageriamo adesso! Qui abbiamo un moonstone full! 70 stack, ragazzi, a 14 minuti! Com'è? Voi che siete sicuramente tutti main sona, giusto? Shin, dai, dai che sei main sona! Com'è? 71 stack a 14 minuti! Una merda! E un altro dice benissimo! Decidetevi! Mi fido di Jenny! Butta vaffanculo! Kirelia è morta! Amumu top! Potrei provare a collassare! Vediamo! Meno male che Amumu non m'ha visto! Perché non ha collassato su di me, Kiles? Silenzio! Serie di uccisione! Il player più... Aio! Aspetta! Fermi! È morto! 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 Fermi tutti! È morto! Corde di violino per tutti! Che prestazione! Potevo salvare Jinx! E allora godo il triplo! E allora... Sorry I crashed! I won't lie to you guys! I lagged! 900 ping! Sorry! Quando sta Jinx è gigantesca! È pronta! Guarda un po' dei minion però questi contro! Oh! Teila! Facile! Oddio! C'è il Talon! E gameplay di Shinx come fai a giocare sta roba? Tranquilli! Non prendiamo l'aggro! Papi non mi faccia, addio! Sono a full aggro! Sono a full roaming aggressive playstyle! A master 120 LP! In perfect live! Due giorni fa perso tutti i game! Oggi vinciamo tutti i game! Sarò migliorato nel sonno! Sarò migliorato nel... Allora uno vi uno! Dov'è nocturne? Dov'è nocturne?! Dov'è nocturne?! Dov'è nocturne?! Più lì sotto! Bene! Zonia! Ma che archangel! Andate a fanculo voi l'archangel che fa cagare l'archangel! Bater del cazzo! Bater del cazzo! Siete dei baiter? Clessidra! Clessidra di Zonia! Game spettacolare del magister! E ora ragazzi sentite qua ragazzi! Facciamo un archangel! Facciamo un archangel ragazzi! Che pensate nella mia idea! Chiediamo adesso una bella archangel! Questa zona qua starà spettacolare! Mettiamola sul 2! Anzi chiediamo un vento dell'inverno! No facciamo un archangel! Abbiamo il flash ragazzi! E la prossima ulti del magister sarà la R! Ti sono più bella di sempre! Alfa playstyle! Il flash in backline! Facile! Non volevo buttare gli altri falliti! Eram morti! Facile! Facile! 4-0-23! L'immortale! Ciro l'immortale! 4-0-23! Grazie per la clip Andrebbe! Cos'è questa roba qua? Ah sì! Per vedere cosa è successo mentre non c'ero ragazzi! Venite con me un secondo! No vabbè! Guardate sto dodge! Guardate sto dodge! Già questo dodge vale la carriera di Shin come giocatore! Solo sto dodge Shin! Con solo questo dodge! Con questo dodge faccio capire a 20.000 persone che sono più forti di te! Solo con questo movimento qua mi ho trovato in basso! E mi sono mosso verso di te! Giusto verso il basso! Dove sei tu in Diamond 4! Bam! Guardate! Dodge in basso! Bam! Arriva Irelia! Guardate qua! Ulti! Aspetto che arrivi lì! Perché? Perché voglio hitare anche Kai'Sa! Giusto? Hito anche Kai'Sa! Ora aspetto la ulti di Irelia! Flasho perché sta arrivando anche Kai'Sa! Bam! Ovviamente non volevo flasciare l'ulti di Kai'Sa! Volevo flasciare l'ulti di Irelia! Arriva Kai'Sa! Movimento a destra-sinistra! Premo W! Mi curo! Bam! Exaust! Bam! Q! Bam! Q! Bam! Q! Morto! Dodge in alto l'ulti di Irelia! Sola! Arriva Jinx! Premo W! Inutile! Cramoroso! Premo Q! Premo Q! Morto! Poi mi alzo! Vado via perché sono troppo forte! Vediamo quello che succede ragazzi! Mi alzo e vado via! Arriva Sona! Sona poteva salvarlo! Sì! Talon mi vede! Talon! Aio! E mi... La paura ragazzi! La paura ragazzi! La paura! Vedete cos'è la paura! Vedete ragazzi! Vedete la paura! La skill! Quando una persona è troppo forte! E infatti ragazzi! Mi sono meritato! Tutti questi... Tutti questi LP! Volevo dire! Tutti qui! Vitete laura! Tutti qui? Tutti qui!